Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla strada statale 372 Tilesina, fino alle ore 17 del 30 dicembre, per lavori sono attivi i sensi unici alternati tra le uscite al Vignano e Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Sulla strada statale 19 delle Calabrie, fino a mercoledì 20 febbraio, nella fascia oraria 7-19, esclusi i giorni festivi e prefestivi, per lavori attivo il senso unico alternato in località Padula, in provincia di Salerno. Sulla raccordo di Benevento, fino alle ore 18 di giovedì 31 gennaio, per lavori attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso, tra i svincoli San Giorgio del Sagno e Castello del Lago, in direzione della 16 Napoli-Canosa. Ma per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito, l'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Vi ricordo che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità del trasporto pubblico locale. Infine potete iscrivervi alla nostra newsletter che è a cadenza quindicinale. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.